Ciao a tutti ragazzi bentornati su Starlightstube. Oggi la intro un po' più diciamo mogia perché questo è un video diverso dal solito è anche un po' un video sfogo diciamo e anche una sorta di ringraziamento per molte persone perché ci tenevo appunto a parlarvi di questa cosa che è successa nella mia vita per alcuni sarà la stronzata soprattutto per quelli più insensibili diciamo mentre so che per altri sarà una cosa che potrebbero capire capire molto bene sabato questo sabato che appena che appena trascorso dopo 15 anni la mia cagnolona nana ci ha lasciati e io non è il primo cane che che perdo anzi è il quarto diciamo il primo cagnolino che ho avuto che si chiamava Omero non gli ho dato il nome ma gli era dato alla mia madrina che all'epoca io avevo sette anni lei era più grande di me appunto di quasi dieci anni quindi andava già le superiore era una grande appassionata dell'Iliade quindi me lo chiamò Omero e mi chiese di lasciargli il nome quando me lo quando me lo diede e lui se n'è andato a 19 anni però lui lui serenamente di vecchiaia e tutto e se n'è andato serenamente tra le braccia del mio papà oltretutto poi c'è stato c'è stato giù scusate c'è stata luna anzi con cui purtroppo non ho trascorso molto tempo perché luna appunto era la figlia di Omero insieme a Sam e Junior insieme alla Sally che erano diciamo la Sally era la cagnolina dei miei nonni e era stata messa incinta da Omero proprio l'anno prima che lui morisse e di conseguenza appunto io avevo preso Sam mentre Junior e Luna erano rimasti qua prima che ci trasferissimo e Luna era una peste perché le piaceva ficcare il naso dappertutto infatti ha scardinato un armadietto dove mio nonno teneva le cose per l'orto e sia lei che Junior hanno mangiato un sacco di lumachina Junior si è salvato Luna invece no però Luna che diciamo appunto ci sono rimasta comunque malissimo perché era una delle più belle poi della cucciolata erano su tre era veramente la più bella aveva un pelo lucido e una dolcezza meravigliosa era solo una peste e quindi ci rimasi male però non ci avevo passato tanto tempo insieme poi appunto c'è stato Junior c'è stato Junior che lui è stato investito da una macchina perché aveva il vizio di saltare come una gazzella vi giuro mio padre ha messo le reti alte non so quanti mentre avevamo la casa che era praticamente alcatraz eppure lui riusciva a saltare ugualmente a volte riusciva anche a calcolare il peso per piegare la rete e poi scivolare in strada non vi dico le giornate che abbiamo passato spesso io papà il nonne mia madre a cercarlo quel cane e un giorno è scappato via una volta di troppo perché lui ogni volta che sentiva una cagna in calore la doveva andare a castigare lo abbiamo scoperto mettendo un annuncio sulla radio locale e una signora ci ha riportato il collare e ci ha detto di aver assistito al fatto ma ci ha pensato lei a smaltire tutto e voi sapete che i veterinari non prendono quattro soldi anche soltanto per smaltire il corpo di un cane e non ha rivoluto indietro una lira e io ho pensato o è veramente una persona buonissima e generosissima tipo nemmeno io avrei voluto indietro i soldi beh odio 200 euro forse magari avrei chiesto la metà ecco magari avrei chiesto la metà però lei non ha voluto indietro niente quindi ho veramente un eccesso di generosità o era stata lei a farlo magari involontariamente perché si vedeva che era dispiaciuta nel vedermi piangere davvero si è si è commossa e poi appunto adesso è toccato a nana però nana tra tutti questi che vi ho raccontato insieme a luna credo perché luna ha lottato ma purtroppo non ce l'ha fatta è quella che ha sofferto di più la mia nana era un boxer mistolabro se andate appunto sul mio profilo instagram la potrete vedere perché era veramente difficile farle le foto ogni volta che le mettevo il cellulare davanti lei abbassava la testa così si scansava si girava pure a volte invece quando poi vedeva che abbassava il telefono si rimetteva normale quando lo alzavo lei subito tec oppure tec cioè non le piacevano molto le foto e quelle sono le ultime appunto che le ho fatto perché appunto stava così male che non aveva neanche la forza di scansarsi anche se non sembra ma stavamo anzi quelle foto che vedrete nell'ultimo post stava diciamo che era era ancora all'inizio della sua malattia per qualche giorno la vedevamo che perdeva bavetta intrisa di sangue pensavamo a un magari un'infezione dentaria o un infiammazione sapete non è che non siamo veterinari vedendo che continuava l'abbiamo portata dalla nostra veterinaria di fiducia oltretutto una bravissima donna che però non è riuscita ad aprire bene la bocca in quel momento quindi anche lei ha pensato a una cosa dei denti quindi ci ha detto portatemela tra qualche giorno che facciamo la pulizia e tutto quanto per per sistemarla anche perché in quel periodo aveva un alito mamma mia ragazzi le fogne di calcutta forse profumavano in confronto quando l'abbiamo portata per la pulizia sapete che per fare la pulizia dei denti i cani bisogna sedarli ha potuto aprirle bene la bocca infatti eravamo appena usciti dovevamo tornare tra un'oretta dopo dieci minuti ci ha richiamato tornate subito qua e ci ha mostrato effettivamente il tumore che aveva alla bocca e ci aveva già preparati diciamo ci aveva già preparati guardate che non arriverà neanche alla fine dell'anno però non si è mai pronti diciamo a un momento del genere lei comunque ci ha dato una cura palliativa e con questa cura diciamo che comunque mangiava faceva i suoi bisogni all'apparenza sembrava stare bene però col tempo infatti ha perso tono muscolare è dimagrita non riusciva più a stare in piedi e sabato io io me lo sentivo che sarebbe successo qualcosa perché non soltanto è uscita a fare i bisogni e a un certo punto si è bloccata lì nel suo angolino perché proprio il suo angolino fisso le andava sempre in quel punto e non si muoveva non riusciva proprio a capire dove andare per tornare indietro a un certo punto è anche caduta e io era come se me lo sentissi tra oggi e domani secondo me qui succede qualcosa infatti prima prima di andare al supermercato io e mio padre la solleviamo perché ormai veramente non stava più in piedi la mettiamo sul lettone all'apparenza tranquilla andiamo al supermercato e mentre siamo lì mia madre ci chiama disperati aiuto aiuto tornati indietro nana 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 io ho pensato io ho pensato subito se n'è andata e anche mio padre abbiamo mollato il carello della spesa pieno e mezzo pieno cestina di cestinelle abbiamo mollato abbiamo mollato lì la gente infatti che ci guardava ci guardava attoniti siamo scappati via proprio con il fuoco il fuoco al fuoco alle spalle e quando siamo arrivati mio padre nana non c'era già più che cosa era successo una crisi epilettica e la dottoressa aveva avvertito che poteva succedere perché il tumore aveva preso la testa se l'è portata via quindi quello che a me fa veramente stare male e che se n'è andata non serenamente ha purtroppo sofferto e ha patito voi potete dirmi è ma quando vi siete accorti che non stava più in piedi potevate farle fare la puntura no era una cosa che noi volevamo evitare noi pensavamo che che si sarebbe spenta che un giorno le metastidi avrebbero preso cuore e polmoni e avrebbero smesso di funzionare si sarebbe addormentata serenamente purtroppo invece questo tumore bastardo ha dovuto farla patire anche anche nel momento in cui se l'è portata via abbiamo fatto quello che dovevamo fare l'abbiamo portata dalla veterinaria che ha pensato lei allo smaltimento perché sapete se lì ecco non vi ho parlato di se lì dopo ve ne parlo se lì anzi ve ne parlo adesso era piccolina se lì se n'è andata nel sonno se n'è andata una settimana dopo che è morta mia nonna perché lei aveva capito ho finito il mio compito anche lei era vecchiotta aveva anche lei quasi 20 anni ho finito il mio compito me ne posso andare infatti è morta aspettato che arrivasse mio padre dal lavoro e dopo cinque minuti si è spenta anche lei nella cuccia nella cuccia oltretutto di nella cuccia oltretutto di nana nella cuccia di nana si è spenta che non si sopportavano perché erano due femmine hanno litigato tante di quelle volte infatti quando ho lasciato lì il corpo della mia piccola gli ho dato un bacio e gli ho detto adesso andrei dalla selli mi raccomando almeno lassù evita evita di pestarla per favore no nana era molto irrascibile perché essendo anche lei una femmina era molto molto irrascibile e la pela ogni tanto si sono si sono pigliate solo che nana era grossa mentre sellina invece era più piccolina era una bastardina piccolina e mentre nana invece era un boxer misto lavado se andate a vedere appunto quant'era anzi queste foto che avete visto era già magra nana era molto più corpulenta quando stava bene e quindi con questa con nana se ne va un pezzo del nostro cuore adesso c'è rimasto semuccio ma dopo di lui abbiamo deciso almeno finché vivremo tutti insieme di non prenderne più perché siamo non dico stufi ma non vogliamo più soffrire in questo modo specialmente mia mamma mia mamma che ha una sensibilità io adesso sto girando domenica sera il giorno dopo io sto già meglio io elaboro più in fretta i lutti anche perché ho più motivi per distrarmi tipo anche mettermi qua e fare questo video sfogo mi sta aiutando tanto anche mio padre mio padre comunque fa le sue cose mercoledì torna a lavorare lui si distrarrà ma anche lui sta soffrendo siamo soffrendo ancora tanto ma mia mamma proprio mia mamma per un mero per un mero per un mero ha pianto due mesi se non non di più per una settimana non si è alzata dal letto cioè per capire quanto è sensibile questa donna i più cini ci diranno ma è solo un cane se sento se vedo qualche commento così ragazzi vi banno non soltanto voi ma anche la vostra famiglia e ve lo giuro e quindi di conseguenza lei oggi ha pianto ancora quando noi siamo andati a recuperare la spesa che non abbiamo fatto ieri lei sicuramente qua da sola avrà pianto ancora e anche adesso è molto mogia insomma è stata è stata veramente veramente dura se ne va un pezzo appunto nel nostro cuore non vogliamo più soffrire così per quanti cani siano belli per quanto ti diano amore noi lo sappiamo meglio di chiunque altro non vogliamo più soffrire così cioè è stata questa botta è stata la botta definitiva non vogliamo avere altre botte del genere almeno per il momento non so se poi magari se ci se dio vuole ci trasferiremo magari cambieremo idea ma per adesso è rimasto sam sam è un bastardino piccolo in salute va bene non ha più i denti ma per quello perché se anche lui era capigliato con un altro cane che gliele ha fatti cadere tutti poi anche un po la vecchiaia e tutto quanto lui sta ancora abbastanza bene insomma per adesso abbiamo lui ma dopo di lui io non credo per il momento almeno per ora se ne prenderemo un altro non so se magari quando ci trasferiremo se sam sarà ancora con noi magari ci penseremo ma per il momento cioè allo stato attuale infatti la dottoressa ci ha detto quando ce ne siamo andati magari vi rivedrò tra poco con un cucciolo da vaccinare noi l'abbiamo detto no no dottoressa se lo può scordare stiamo troppo male ma se non vogliamo più soffrire così basta cioè i cani li abbiamo avuti e abbiamo vissuto questo dolore questa è la quarta volta e fra un po' ci sarà anche una quinta perché anche sam ci lascerà quindi si soffrirà anche lì e basta cioè il nostro cuore il cuore ha penso a un limite di sopportazione al momento la nostra idea è questa non so se poi più avanti la cambieremo nana infatti è arrivata in un momento in cui abbiamo scoperto di junior e avevamo proprio bisogno di amore di affetto questa la storia di questa cagnolina ci aveva commosso perché era stata abbandonata davanti a un canile che grazie a dio adesso ha chiuso quindi secondo me se la abbandonavano in mezzo alla strada le facevano meglio quella a questa quella povera cagna e ci ha commosso la sua storia e abbiamo deciso di prenderla ma ci hanno mentito su tante cose questi del canile infatti questo canile grazie a dio ha chiuso quindi appunto di conseguenza per adesso non prenderemo altri cani poi non so come vi ho detto se cambieremo idea e io volevo appunto anche con questo video intanto sfogarmi e raccontarvi la mia storia perché quando ho perso gli altri non avevo ancora il canale youtube e poi anche un video un po per sfogarmi anch'io ma anche soprattutto per ringraziare tutte le persone che su instagram mi hanno riempito di commenti anche su facebook di commenti di messaggi di conforto meravigliosi quindi io e soprattutto le mie amiche voglio ringraziare delle mie amiche in particolare carol irene gaia alice franci eleonora arianna che davvero marica che mi hanno telefonato alcune mi hanno anche telefonato alcune di loro per per starmi vicino e con questo cazzo di lockdown non ci si può neanche vedere se no io io sapevo che se avesse avuto bisogno bastava che chiamavo una di loro e mi avrebbero ospitato sicuramente per il weekend per distrarmi un po ne sono assolutamente sicura quindi è anche brutta questa cosa doversi succedere queste cose ed essere soli io non mi sono sentita sola perché i messaggi mi hanno dato conforto però sapete un conto è il conforto scritto un altro o vocale un conto è proprio il conforto umano è tutta un'altra cosa quindi appunto questo video volevo usarlo proprio per ringraziare tutte queste persone poi ringrazio anche tutte le altre ragazze che davvero i vostri commenti i vostri messaggi mi hanno scaldato il cuore e niente nana sarà sempre nel mio cuore e io io non credo che non la dimenticherò mai bene questo video si conclude qui io spero che vi sia piaciuto e spero che potrete capirmi e che potrete identificarvi magari in quello che ho provato che ho provato io in questo in questo momento faccio rapida pubblicità anche se questo non è non sono dei video in cui lo faccio però vabbè in descrizione trovate appunto l'instagram e il facebook di carol italia visto che carol ormai è un'amica preziosa che mi ha anche telefonato oggi che è domenica per parlare e distrarmi un po quindi io ormai poi sono una fan della pagina e soprattutto un ospite fissa nelle live della pagina facebook quindi andateci se amate le walking dead e spaccatela di mi piace troverete anche il mio instagram il mio social più attivo dove appunto troverete il post dedicato a nana se volete darci dare un'occhiata allo splendore che era la mia cagnolona iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto cliccate sulla campanella per attivare le notifiche sui nuovi video e se questo vi è piaciuto mettetemi un bel like e condividetelo non un messaggio che voglio dare ragazzi i cani non sono soltanto cani i cani sono a volte più intelligenti degli esseri umani sanno darti più amore di un essere umano e soprattutto si prendono un pezzo del tuo cuore e non lo lasciano neanche quando quando scompaiono io vi mando un grande bacione e noi ci vediamo poi al prossimo video la prossima recensione la prossima reaction ciao a tutti ciao a tutti ciao